buona domenica cari ascoltatori e cari ascoltatrici il signore è stato per noi una rocca in ogni generazione di eternità in eternità lui è il nostro dio amen leggiamo dal salmo 102 egli si è volto alla preghiera degli indigenti e non ha disprezzato la loro supplica questo sarà scritto per quelli che verranno dopo e un popolo non ancora nato lo derà il signore poiché è guardato giù dalla sua altezza santa dai cieli egli osserva la terra così da udire i sospiri dei prigionieri e liberare quelli condannati a morte così che il nome del signore possa essere proclamato in sion e le sue lodi in gerusalemme quando popoli si radunano assieme e anche i regni per servire il signore amen ci raccogliamo in preghiera signore gesù che guardi incessantemente il volto della gloria di dio tu che percepisci l'amore e l'agonia lo splendore e l'ombra che proietta aiutaci ora a essere parte di questo stesso mistero tu che ci tieni in uno sguardo d'amore dall'intensità appassionata comprendendo tutto perdonando tutto riscattando le profondità delle nostre tenebre amen vieni in mezzo a noi che il liberatore ci raccogliamo in tutto il tuo grande amore non lasciarci più che il liberatore ci raccogliamo in tutto il tuo grande amore non lasciarci più bene per la tua3 mi La lettura biblica è tratta dal libro della Genesi, al capitolo 2, dal versetto 4b al versetto 9 e quindi il versetto 15. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. Egli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio, il Signore, piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio, il Signore, fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Amen. Caro ascoltatore e cara ascoltatrice, la creazione del mondo da parte di Dio per me è una bellissima favola. Ora immagino le vostre obiezioni. Qualcuno dirà che siamo davanti al racconto preciso, sì, nelle virgole di come il Signore ha formato e dato vita a tutto ciò che conosciamo. Altri protesteranno che si tratta di un testo impregnato di miti tipici dell'Antico Oriente, mentre altri ancora riterranno che qui l'importante non è il come, bensì cosa l'Eterno ha operato. Cosa volete che vi dica? Il piccolo credente che è in me davanti a questo racconto si meraviglia come un bambino quando la nonna gli racconta una bella favola. Perché questi versetti ci dicono tante cose. Ci comunicano che la nostra esistenza non è frutto del caso. In un universo costellato di milioni di galassie e miliardi di sistemi solari, non è per una semplice questione di probabilità che noi esistiamo. Perciò la prima caratteristica dell'essere umano è la sua creaturalità. Noi siamo figli e figlie di qualcuno. Secondariamente, Dio ha un progetto organico. Pensò all'essere umano, ma pensò pure a uno spazio nel quale potesse vivere e a un luogo che offrisse il necessario per il suo sostentamento. Infine, il Signore diede fiducia alla sua creatura e al contempo la responsabilizzò. Teologicamente potremmo affermare che gli rivolse vocazione. Dovrete convenire con me che fin qui è proprio una bella favoletta. Ma come in ogni fiaba che si rispetti, prima o poi arrivano i guai. Nel nostro caso, i problemi sono rappresentati dall'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. All'essere umano fu dato il permesso di lavorare e custodire il giardino di Eden, ossia, parafrasando a senso, di occuparsi dell'agricoltura e dell'allevamento. Dio non intendeva essere quel tipo di genitore che si prende costantemente cura di una prole considerata minorenne anche quando ha 40 anni. Ma colui che mette i propri figli e le proprie figlie diventate adulte in grado di provvedere a se stessi autonomamente. L'essere umano, plasmato dalla terra, sulla terra trovò lo spazio e il nutrimento per vivere. E nel lavoro accorto e responsabile di questa stessa terra trovò la propria occupazione. Se ci pensate, è una visione sorprendentemente laica dell'esistenza, dove l'indipendenza umana è sottolineata e apprezzata. Già, però ci sono quei due alberi. Possiamo considerarli come elementi di una visione del mondo arcaica e superata, ma dobbiamo cercare di comprendere la loro importanza nell'economia del racconto. Se non vi fosse stato un divieto, non sarebbe stata possibile la trasgressione. Forse dovremmo concentrarci, invece, su che cosa positivamente quegli alberi significano per noi. L'albero della vita ci fa comprendere che l'essere umano non era immortale e quello della conoscenza del bene e del male ci avverte che i nostri progenitori non erano onniscienti. Suona familiare? Abbastanza, direi. Gli uomini e le donne, che pure hanno la capacità di generare la vita, rimangono creature, hanno dei limiti e devono rispettarli. Ma Adamo ed Eva, mal consigliati, vogliono andare oltre. Ora, è vero che bisogna sempre progredire e alzare la sticella. In campo sportivo, per esempio, i record sono fatti per essere superati. Mentre dal punto di vista psicologico, gli adolescenti devono, diciamo così, uccidere i propri genitori. Ma vi sono territori nei quali ci inoltriamo al nostro rischio e pericolo e dai quali non si torna. I due alberi rappresentano tutto questo e, in fondo, Dio non potrebbe essere il nostro Padre Celeste se, oltre ad averci creati e ad aver reso possibile la nostra esistenza, non ci avesse pure messi in guardia da tutto quello che può nuocerci. La riprova l'abbiamo nei cambiamenti climatici dei quali avvertiamo in modo sempre più traumatico gli effetti. L'essere umano ha tradito la fiducia del suo creatore, ha abusato della sua posizione e ha dominato e sfruttato una natura della quale, invece, avrebbe dovuto prendersi cura amorevolmente. Nella loro ansia per il domani, gli uomini e le donne hanno, a dire il meno, esagerato. Come affermò Gesù Cristo, il Padre vostro Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il Regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Che cosa può significare cercare prima il Regno di Dio se non cercare di vivere riconoscendo la propria creaturalità, i propri limiti e il proprio posto nel mondo? Che cosa può significare se non vivere la vocazione alla responsabilità nei confronti di quella natura di cui facciamo parte assieme agli animali? In questo mese di settembre in cui ogni anno si celebra il Tempo del Creato e in questa estate che ha visto roghi e nubi fragili devastanti tutto questo dovrebbe risultarci assolutamente urgente e necessario. Presto, infatti, la domanda agosciata che mondo lasceremo ai nostri figli potrebbe essere sostituita da un interrogativo assai più drammatico. Ci sarà ancora un mondo per loro? La risposta e questo costituisce la conclusione felice della nostra favola è sì, può esserci. Nella misura in cui sapremo cercare prima il regno e la giustizia di Dio tutte queste cose ci saranno date in più. Gli esseri umani avranno un futuro soltanto se saranno consapevoli e prenderanno sul serio la vocazione, i permessi e le proibizioni del Signore. Soltanto se sapranno vivere coscientemente e fattivamente secondo queste direttive allora faranno la sua volontà. Quando questo avviene il Signore non può che guardare con favore e benedire l'opera delle nostre mani. Non vi sembra di sentirlo? Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Non so voi, ma personalmente questo lo trovo un bellissimo lieto fine. Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Portiamo al Signore coloro che hanno vegliato su di noi e coloro sui quali vegliamo. O Dio che ci chiami a vegliare, abbraccia i nostri cuori, sintonizza le nostre menti, calma i nostri corpi, si presente a noi ora. E quindi apri i nostri occhi, colma l'abisso della nostra immaginazione, trafiggici con il tuo sguardo, penetra le nostre difese, facci confrontare con noi stessi, così che possiamo contemplare il tuo volto, vedere come siamo visti e sapere come siamo conosciuti, anche se il vetro è oscuro. Amen. Padre nostro che in cielo dimori, nel tuo nome saltea la virtù, su noi e se ha fatto Signore, come in cielo il tuo volere qua giù. Oggi il pan quotidiano ci dona e le offese di venti ciancò come ognuno di noi le perdona al fratello che gli è delito. ciancò di ciancò 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 eterno tu freddo e glorioso signor riceviamo la benedizione l'amore del Signore Gesù ci attivi a sé la potenza del Signore Gesù ci fortifichi per il suo servizio la gioia del Signore Gesù riempia i nostri cuori e la benedizione di Dio Onnipotente Padre Figlio e Spirito Santo sia su di noi e rimanga con noi ora e sempre Amen